Il mercato del mercoledì della strada parco si deve spostare perché ci sono i mezzi tua che devono arrivare nel frattempo, prima di settembre, i lavori che partono. Sono state presentate delle ipotesi, delle soluzioni da parte dell'amministrazione che dovranno essere vagliate. Tra queste il parcheggio delle Naadi potrebbe essere la nuova sede del mercato del mercoledì. Cosa ne pensi? Noi siamo nettamente contrari alla sede delle Naadi. Primo perché già in una zona adiacente si svolge il mercato il martedì, che è il giorno precedente. E secondo è una zona quasi un dormitorio, come per esempio Piazza Duce, che è pieno di vita il mercato. È una zona quasi deserta. E per di più, già questa zona qui era stata proposta negli anni addietro e è sempre stata scartata da tutti. Seconda ipotesi, il mercato dovrebbe tornare tra le strade di Viale Kennedy e Viale Cadorna. Diciamo che fra tutte le ipotesi è quella che magari ci fa un pochettino più piacere. Ritorniamo nella vecchia posizione, però con tutte le problematiche che abbiamo avuto a suo tempo. C'è nel senso che è una via, il Via Cadorna, che è una via di passaggio. È l'unica via che va verso il mare e dopo ci sono anche tutti i residenti che ogni volta che c'è il mercato sono obbligati a togliere le macchine e diciamo che vedono il mercato di buon occhio. Terza ipotesi, lo sdoppiamento del mercato proposto tra Viale Kennedy e Via Spiga. Sono contrario a sdoppiare il mercato perché la fine dei conti è un mercato, lo vai a sdoppiare, lo indebolisci perché c'è il rischio che uno lavora, uno no. Dopo il mercato sinceramente è di Piazza Duca, il mercato è a Piazza Duca, tu lo vai a mettere in un'altra zona che non è. Il mercato va tenuto compatto, unito, cose che facciamo per esempio qui a Montesilvano e l'amministrazione ci dà sempre l'opportunità di farlo fare a noi, noi diamo le opzioni e dopodiché siamo noi stessi che forse capiamo pure un po' di più delle problematiche del mercato stesso. Cosa che invece a Pescare ci presentano sempre le piantine già fatte e dopo dobbiamo scegliere o A o B, ma non è quello il discorso da fare.